Grazie a tutti. Sì, soprattutto parliamo di comunità, di come si può costruire una comunità o come anche si può distruggere una comunità. Le comunità purtroppo, o per fortuna, sono entità culturali che dipendono dalla volontà nostra di creare legami oppure a volte di distruggerla oppure di rinchiudersi ed escludere qualcuno. Quindi sono processi storici che si alternano. Purtroppo oggi viviamo in un periodo di chiusura e speriamo che finisca in fretta. E secondo lei quale potrebbe essere una strada per far finire questo periodo di chiusura, per aprirsi? Perché una comunità funzioni e tenga vivi legami ci vogliono dei valori condivisi e anche dei rituali che ci riportino continuamente alla memoria questi valori. E questi valori però devono essere valori di apertura. La comunità paradossalmente è un insieme di persone che ha un confine, deve finire da qualche parte, se non una comunità, ma se si chiude, se non si apre a valori universali e trasversali, finisce per estinguersi o dissanguarsi. Quindi dobbiamo riportare in primo piano dei valori che ci accomunino. Grazie.